Mercoledì 24 maggio, presso Il Passo Social Point a Torino, in zona barriera di Milano, è stato presentato il Community Center, una rete nazionale di sportelli informativi, intesi come luoghi di aggregazione e di riferimento per servizi di orientamento e consulenza a italiani e stranieri, basandosi sui principi dell'inclusione e della giustizia sociale. Progetto promosso dalla Diaconia Valdese e da Oxfam Italia. I Community Center sono un progetto di Diaconia Valdese e Oxfam Italia, una collaborazione per la quale è stato previsto l'apertura di quattro centri a Torino, Firenze, Arezzo e Catania, centri di ascolto, di orientamento e centri anche per rilevare i bisogni della popolazione, spesso in zone caratteristiche. Anche qua, barriera di Milano, è una zona che racconta un po' la storia delle migrazioni di Torino, quindi una zona dove c'è una convivenza tra italiani, tra persone venute dall'estero, ma qui ormai già da decenni, tra nuovi immigrati. E appunto, non a caso, questo centro vuole lavorare anche sull'inclusione sociale, anche sulla collaborazione e anche sulla crescita generale della popolazione nel suo complesso, appunto così articolata come ho appena descritto. Abbiamo servizi di orientamento alle pratiche burocratiche, pensiamo ad esempio in tema di immigrazione, a permesso di soggiorno, richiesta di cittadinanza, ma anche servizi a orientamento ad esempio ai servizi educativi, inserimento scolastico, oppure corsi di formazione e qui si ricollega anche in qualche modo al tema del lavoro, quindi avremo dell'orientamento in ambito lavorativo, orientamento anche ai servizi sanitari e poi tante altre collaborazioni specifiche. Il progetto va ad allargare i servizi del Passo, già attivo dal 2015 in diverse attività a sostegno delle fasce più disagiate di questa zona periferica del capoluogo piemontese. Il Passo è un centro di aggregazione sociale, ma è soprattutto un centro di accoglienza. La gente viene qua, è accolta, senza appuntamento, senza programmazione. Vengono accolti e ascoltati. Teniamo compagnia, chiacchieriamo e poi dopo la chiacchierata escono bisogni, se ci sono dei bisogni. Oltre a questo noi abbiamo delle attività programmate, soprattutto per i beneficiari dei corridoi umanitari, che sono beneficiari siriani arrivati dal Libano. Le attività sono un gruppo psicologico per adulti, un gruppo per bambini, un gruppo per l'ostetrica, con l'ostetrica per le donne in gravidanza e dopo il parto e questo gruppo è aperto a tutta la cittadinanza. Abbiamo anche un gruppo sempre aperto a tutta la cittadinanza di mamme con bambini neonati da 0 a 1 anno. C'è l'attività di extratitoli che fanno riconoscere i diplomi lauree estere in Italia e viceversa. L'apertura del community center è stata accompagnata dall'inaugurazione della mostra fotografica Facce da 4, non estetica, no etica, del fotografo Salvatore Svadas, che ha proposto le immagini scattate sul tram numero 4, linea storica di Torino che collega le periferie al centro, ma anche, cosa non scontata, il centro alle periferie. Io sono una persona che osservo molto, un giorno avevo il cellulare così che smanettavo col cellulare come fanno tutti adesso e c'erano questi personaggi esteticamente molto interessanti. Così per gioco ho fatto una foto, poi sono arrivato a casa, l'ho guardata, ho detto ma perché non creare una pagina comunque su Instagram dove appunto posso pubblicare queste foto e raccontare un po' la città comunque. Il titolo non l'ho deciso io, l'ho deciso una giornalista di Repubblica che mi ha fatto un articolo appunto su Repubblica che si chiama Francesca Lai, che comunque ringrazio, l'ha intitolato Facce da 4. Invece il sottotitolo è mio, in realtà da un aneddoto che mi è successo su Facebook mandando appunto l'email di questo articolo che è stato pubblicato su Repubblica alcuni fotografi abbastanza famosi di cui ho fatto workshop e cose del genere e questo fotografo famoso mi ha risposto che queste foto non avevano né etica né estetica, mi aveva detto appunto che senso hanno queste foto e da lì poi è nato questo titolo. Al prossimo episodio